Ciao Andrea, fai uno scherzo alla mia ragazza Francesca che ha fatto il colloquio ieri, no, il colloquio in Ferrari a Maranello, ha passato la visita medica ed è in ansia, digli che è stata assunta anziché in fonderia, è stata assegnata all'ufficio logistico, il numero è questo, ah, ah, allora come fa, gli faccio imitare il rumore della Ferrari, se riesco a fargli imitare il rumore della Ferrari, mi dovete dare un premio però ragazzi, un premio, premio, premio quaglione dell'anno, dai. Capitan Puglia, Capitan Puglia, Capitan Puglia, ho fatto un incrocio di personaggi famosi, tu sei Capitan Puglia, Capitan Puglia, mangia mozzarella e tarallina, andiamo qua, allora lei come si chiama, quando ha fatto lo scherzo, quando ha fatto il colloquio la tua Francesca, la tua ragazza, fratello, quando l'ha fatto il colloquio? Pronto, la Ferrari di Maranello, buongiorno signora, le passo l'incaricato un attimo. Pronto signora, buongiorno signora. Ma che voce c'è? Allora, cambio voce. No, 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 eh, ma due mesi fa, ammazza, due mesi fa, non la chiamano più, richiamiamo, richiamiamo, proviamo, proviamo, eh, mi sa che è staccato. No, fammi vedere, fammi correggere, cioè, fammi, come si dice, fammi, fammi vedere se, se il numero è giusto. Aspetta, eh, tre, quattro, eh, cinque, sì, eh, ho sbagliato, lo sapevo, lo sapevo. Non sapevo. Tre, quattro, cinque, io sono, sono un disastro, vero. Mancava il nove, vedi, nove, 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 mancava il nove. Pronto, Francesca? E la Ferrari di Maranello, è Maranello, come si dice? La Ferrari di Maranello, come si dice? E la Ferrari è Maranello. Iliad. Emma, ha scritto. Ah, Iliad. Ah, Iliad. Che cazzo sta scrivendo? Iliad. No, non ha risposto. Ma perché nelle altre radio rispondono sempre? A noi non ci rispondono mai. Chi siamo noi? Chi siamo? I brucchi anatroccoli siamo. Richiamo. Allora, allora, è la Ferrari di Maranello, signora. La Ferrari di Maranello, signor, forza. Fanno, rispondi? Mamma mia. Mamma mia. E' pronto la Ferrari di Maranello, signora? Signora Francesca? Sì. Sì, la sento male, signora. Pronto, mi sente? No, vi ho già scamati. No, amore! E' stato quello stemmo del numeroso. Amor, quello, non ho capito, è stato quello... Quello stemmo del numeroso, ma io mi ascolto con lui. Amore, ma è cretino! Dai! Lo sai che è così! E' andata male, è andata male. E' andata male, amore. Senti, ma ci speri che ti prendano in Ferrari? Eh, certo. Perché io ho delle conoscenze, ho delle conoscenze. Perché una volta uno con la Ferrari si è fermato e io gli ho dato una spinta, capito? Allora, voglio spingere anche me la prossima volta. Spingo anche te, se lui non è d'accordo il tuo fidanzato io ti do una bella spinta, non c'è problema. Siete fantastici. Grazie, amore mio, ti mando un bacio. Senti, siccome il mio obiettivo era farti fare il rumore della Ferrari. Mi puoi fare il rumore della macchina Ferrari? Vai, 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 ti prego. Vai, vai, vai. Mi devo impegnare, ragazzi. Impegnati, impegnati, vai. Impegnati, vai. Impegnati, vai. Impegnati, vai. Vai, 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 vai. Questa è la Ferrari del fosso. Ti mando un bacio, amore. Un bacio, ciao. Un saluto a voi. Ciao, amore. Ciao, ciao. Fantastica, fantastica, fantastica. Ce l'ho fatta, ragazzi. Quindi il premio lo prendo. Il premio lo prendo. Andrea. Catavolo. The winner is. Studio più. Spongebob.